Ma la cosa più brutta da vedere è una ragazza che lavora, cazzone che arriva e per tutte le ragazze che hanno fatto almeno una volta la cameriera si chiama il principe in bicicletta con più o meno Sarà che lavori troppo e che sorrighi a tutti ma non tuoi mai vista così stanca e così Sarà che sei da con te e troppo che non sarà che ti eri preparata e non vivere la sinistra quell'idiota che ti guarda l'ha capito troppo già perché non è evidentemente ciò che non avrà ma se vuole farlo adesso qualunque sei l'idiota sia anche se non ti colpere pretende almeno che ci sia al cavallo di una pg il tuo principe verrà e sei qualcosa che vuoi libero e sei l'idea che ti guarda che ti guarda è evidentemente ciò che non avrà ma se vuoi farlo adesso ma qualunque ma qualunque il diota sia anche se non ti colpere pretende almeno che ci sia ma al cavallo di una pg il tuo principe verrà il senato da tu vuoi e sei l'idea che ti guarda e se non ti guarda che ti guarda e se non ti guarda non ti guardare sai che l'amori troppo e che sorrigli a tutti ma non ti ho mai vista così bella e così famiglia Grazie a tutti